Ancora un raggiro tramite SMS. Nel mirino dei truffatori, adesso gli utenti dell'Asla Toscana Sud-Est che in questi giorni stanno ricevendo strani messaggi. False comunicazioni, spiega l'azienda sanitaria che invita a fare attenzione. Nel messaggio viene richiesto di aggiornare la propria posizione socio-sanitaria e si invita a richiamare un numero per comunicazioni importanti, spiega l'azienda, che precisa che non si tratta in alcun modo di SMS inviati dall'Asla, anzi sollecita la massima attenzione nel divulgare dati personali sensibili o a chiamare numeri che non siano di sicura provenienza aziendale. L'Asla ricorda poi che le aziende che afferiscono al servizio sanitario regionale non utilizzano mai numeri a tarifazione maggiorata, ma esclusivamente numeri verdi gratuiti. L'invito infine è a segnalare alle forze dell'ordine eventuali abusi. Nei giorni scorsi anche un altro ente aveva lanciato un appello all'attenzione. Si tratta del comune di Castiglion Fiorentino, dove sedi centi incaricati dell'ufficio Tributi del Comune avevano contattato i cittadini, millantandoli dover procedere con l'emissione di alcuni rimborsi.